intervista per i ragazzi di per in di poi ciao domanda numero uno ciao giuseppe presentati a chi ancora non ti conosce che cosa fai nella vita oltre al canto autore ciao a tutti raga bella sono avarello cosa fai nella vita niente di particolare sono una persona piena di cose belle faccio un sacco di cose belle lavoro oltre al canto d'ora lavoro cioè lavoro in realtà la gran parte dei miei giorni faccio il barista faccio i caffè cappuccini con tutti i disegnini pichi e ogni tanto consegno anche le pizze per una pizzeria te porto la pizza a casa io pizza buonissima 338 23 59 462 raccontaci del tuo ultimo singolo preferirei rallentare uscito il 18 dicembre un brano figlio di un medio lungo periodo che insieme ad altri che usciranno un po più avanti cerco un pochino di definire questa mia fase della vita che ho passato che tuttora passo cioè quella vent'anni si capisce una minchia c'è questo mondo che d'inghiotte che devi fare qualcosa era una richiesta una richiesta che facevo a me stesso stavo letteralmente cercando di andare dietro a tutto quello che mi circonda ho capito che non ci sono fatto pestacce dietro mi ero perso nel cercare di capire cosa essere dimenticando di essere cioè è come se il mio cervello gridasse aiuto invece o beh o beh rallenta beh rallenta che poi sbatti e mori hai capito a mio dio un nuovo filtro sì ed è nato così è nato così sto brano una richiesta che facevo a me stesso le tematiche affrontate sono molto figlie del nostro tempo a cosa preferiresti dedicare più tempo che ora non puoi vorrei dedicare più tempo ai miei amici andarli a trovare tutti andarli a trovare e abbracciarli digli che li voglio tanto bene e viaggiare 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 a quali artisti ti ispiri maggiormente per la creazione della tua musica allora c'è più che ispirarmi parlerei più tipo di influenze cioè nel senso indigestione preferirei rallentare e aspettare gli altri che sentirete più avanti sono se sono influenzati dagli ascolti di quel periodo che tipo ascoltavo tanto dente battisti e brunovari gli exotago adesso ad esempio sono infognatissimo con i the chemical brothers e porca troia te caccio l'album tecno io il prossimo album ragazzi da tecno mannaggia saluta la realizzazione di per in di poi alla tua maniera ragazzi speriamo che tutto questo finisca più presto di poterci beccare qualche serata fare feste cantare canzoni tristi quelle felici e sbronzarci